si celebra oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne questo pomeriggio alle 17 30 in diretta con michele spinella il regista corrado di rosa presente il trailer lupo siracusa ortigia ieri sera un 23 ne è stato raggiunto da colpi esplosi da una pistola d'aria compressa un uomo di 61 anni siracusano muore in carcere dopo una lunga malattia guardia di finanza palermo ha eseguito un provvedimento di confisca del valore di oltre due milioni di euro a carico di una badante consegnato questa mattina il murale dedicato al seppellimento di santa lucia il siracusa batte la scafatese e vola in betta alla classifica pallanuoto l'ortigia batte il quinto straordinariamente dr 5.0 unica a 17.900 euro grazie al super bonus rottamazione valido su tutta la gamma dr corri in concessionaria nova auto concessionaria evo e dr via elorina 130 siracusa qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono fisio medical center una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica open mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte in euro physio medical center sedie operative a siracusa in via franca maria gianni 64 e a modica al centro commerciale la fortezza si celebra oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne per sensibilizzare la popolazione sul tema e spingere le vittime a denunciare eventuali molestie e abusi la maggior parte di omicidi avvengono tra le mura domestiche in contesti familiari per mano del coniuge del fidanzato o di altri familiari e colpisce tutte le categorie sociali e le fasce di età gli episodi di maltrattamenti molestie stupri uccisioni di donne continuano a crescere nei registri delle forze dell'ordine ed anche nei centri antiviolenza nei primi sei mesi di quest'anno si è registrato un aumento del 6 per cento di stalking reato che colpisce le donne nel 74 per cento dei casi mentre del 15 per cento i maltrattamenti contro familiari e conviventi il 18 per cento degli atti persecutori è commesso da stranieri percentuale che sale al 29 per cento per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e ciò quanto emerge dal report realizzato dal servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale ufficio interforze del dipartimento della polizia di stato che precisa che la popolazione residente in italia è costituita per il 9 per cento da cittadini stranieri oggi alle 17.30 in diretta con michele spinella no alla violenza sulle donne il regista corrado di rosa presente trailer lupo con in studio duccia gagliardo che interpreta emanuela petruzzelli vittima di violenza e la modella lorena quattrocchi nella parte della moglie del boss ieri sera in ortigia un 23enne di priolo è stato raggiunto da colpi esplosi da una pistola ad aria compressa da ignoti trasportato al pronto soccorso per le ferite riportate il giovane si trova ancora in ospedale sull'accaduto la procura ha aperto un'inchiesta e stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa stanno interrogando alcune persone che potrebbero aver assistito a quanto accaduto nell'immediato ieri sera l'area è stata circoscritta con la presenza sul posto oltre che dei militari dell'arma anche della municipale muore lorenzo vasile il 61enne siracusano ritenuto in passato l'esattore del pizzo per conto del clan urso bottaro detenuto nel carcere di messina dove era stato trasferito a causa delle gravi condizioni di salute lo scorso anno aveva ottenuto dal giudice di sorveglianza il beneficio degli arresti domiciliari per poi tornare alla casa circondariale di cavadonna il suo caso è stato al centro dell'attenzione delle granate dei detenuti che aveva constatato che le condizioni di salute di vasile non fossero più compatibili con la detenzione in carcere vasile aveva a lungo collaborato con la giustizia ottenendo una nuova identità e un lavoro in una località protetta poi a causa di una leggerezza gli sono stati revocati i benefici della collaborazione era stato poi sorpreso a Cassibile in auto con un grosso carico di hashish e per tale motivo condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate fino all'epilogo avvenuto nella giornata di sabato il corpo forestale della regione siciliana coordinato dal nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia ha condotto un'intensa attività di controllo presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa l'operazione ha coinvolto 14 unità e ha portato al sequestro di 2.800 kg di prodotti e sanzioni per un totale di 9.000 euro durante un'operazione gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità rispetto al regolamento dell'Unione Europea e hanno sequestrato diverse partite di agrumi prive della documentazione necessaria per accertarne la provenienza mancanza che viola la normativa europea sulla tracciabilità dei prodotti l'assessore regionale al territorio e all'ambiente ha annunciato l'intenzione di intensificare i controlli sui prodotti DOP, IGP e biologici considerati strategici per la Sicilia regione ricca di biodiversità e prodotti di alta qualità i controlli del corpo forestale contribuiscono anche a contrastare i furti di agrumi un fenomeno diffuso nelle campagne siciliane che causa gravi danni agli agricoltori dei 2.800 kg di agrumi sequestrati 2.400 sono stati donati alla Caritas di Ogesiana che le distribuirà a enti di beneficenza gli agenti della squadra mobile delle volanti di Siracusa hanno fermato una corsa clandestina di cavalli avvenuta sulla provinciale 14 nella zona sud della città a poca distanza dal carcere di Cavadonna la gara è avvenuta nel primo poveriggio di ieri a cui partecipavano due cavalli guidati dai rispettivi fantini ma ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stata la presenza di numerose auto e moto che stavano creando dei forti rallentamenti alla circolazione con conseguenze per la sicurezza stradale gli agenti hanno bloccato la corsa e poi sequestrato uno dei cavalli il cui proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali e gara clandestina il proprietario del secondo cavallo è riuscito a fuggire insieme all'animale approfittando della confusione creata dai numerosi veicoli presenti alla gara clandestina I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca del valore di oltre 2 milioni di euro a seguito della condanna definitiva di una donna accusata di autoriciclaggio e prosciolta per intervenuta prescrizione dalla sola accusa di circonvenzione di incapace le indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla compagnia di bagheria sono scattate tra il 2015 e il 2018 e hanno fatto luce sull'operato di un abbadante di Misilmeri che si è impossessata dei beni di un benestante imprenditore italo-americano del figlio disabile ed erede universale la donna era stata assunta come assistente del ricco imprenditore di origine siciliana rientrato dagli Stati Uniti in Italia per gli ultimi anni della propria vita insieme al figlio affetto da una grave patologia lo stesso imprenditore benestante l'aveva incaricata con proprio testamento di occuparsene per tutta la vita in cambio le aveva lasciato in eredità 31 cespiti immobiliari fra terreni e appartamenti per alcuni dei quali era stato però concesso l'usufrutto al figlio finché fosse rimasto in vita a cui erano state lasciate in eredità polize per un valore di oltre 2 milioni di euro alla morte dell'imprenditore nel 2014 il perito del tribunale incaricato di valutare le capacità del figlio ha presentato delle denunce quest'ultimo ha accertato come il giovane non fosse capace di esprimersi correttamente né di attribuire valore al denaro e alle cose di cui si serviva e che dopo la perdita del padre aveva sviluppato un'attrazione affettiva nei confronti dell'abadante la donna avendo compreso di essere indagata ha tentato di istruire il figlio con l'intento di fare apparire le sue donazioni frutto di scelte coscienti e volontarie le indagini e le intercettazioni hanno dimostrato come la donna alla morte del padre si sia fatta intestare le polize assicurative sui propri conti correnti poi aveva creato una società in Ungheria per nascondere la provenienza da lì sono stati compiuti ulteriori trasferimenti anche verso paesi extracomunitari che ne hanno reso difficoltoso il rintraccio un capannone con decine e decine di pezzi di ricambio rubati è stato scoperto dalla polizia di stato nei giorni scorsi nel corso di una mirata operazione predisposta dal questore di Catania il blitz eseguito ha consentito di trovare ben 140 pezzi di ricambio accatastati in un edificio in una zona isolata adiacente alla strada statale Paternò-Catania per un valore commerciale di oltre 250.000 euro all'interno dello stabile abbandonato i poliziotti hanno sorpreso due uomini di 30 e 44 anni entrambi catanesi trovati accanto a un'auto presumibilmente rubata con le mani e i vestiti sporchi di grasso probabilmente impegnati nelle prime operazioni di smontaggio di alcune parti alla vista degli agenti entrambi sono rimasti stupiti comprendendo subito di non avere modo di dileguarsi dal momento che i poliziotti avevano bloccato tutte le possibili vie di fuga trovate anche carte di circolazione nascoste tra i vari pezzi di ricambio all'interno del covo decine di sportelli gruppi ottici anteriori e posteriori e altre parti di auto con numero identificativo tutti riconducibili a noti marchi di auto per procedere al prelievo di tutti i pezzi rubati e ritrovati nel capannone i poliziotti hanno dovuto far intervenire quattro furgoni di aziende specializzate i due uomini con alle spalle svariati precedenti di polizia proprio in materia di ricettazione da auto e riciclaggio di veicoli sono stati denunciati per ricettazione porto d'armi e oggetti atti a offendere e detenzione di strumenti atti a forzare serrature le parti da auto rubate sono state riconsegnate ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia di furto un appartamento abbandonato trasformato in un deposito di moto rubate è stato individuato dalla polizia di stato a Catania nell'ambito delle azioni di contrasto ai furti di veicoli in città grazie anche alla preziosa collaborazione di una delle vittime del furto dopo le operazioni degli ultimi giorni che hanno permesso di ritrovare scooter auto e pezzi di ricambio gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno scovato un locale abbandonato in via Stazzone nel quartiere Cibali con all'interno tre motoveicoli risultati rubati i poliziotti hanno sfruttato la rilevazione del segnale GPS di uno degli scooter non tanto per individuare l'esatta posizione del mezzo ma per circoscrivere l'area da passare al setaccio grazie alle attività info investigative svolte e al segnale GPS i poliziotti sono riusciti ad arrivare nel quartiere Cibali individuando un appartamento disabitato che è stato sottoposto a perquisizione all'interno dell'edificio gli agenti hanno trovato cumuli di immondizia di ogni tipo solo passando da una finestra è stata notata una prima motocicletta di valore lasciata in una delle stanze del piano terra districandosi fra la spazzatura i poliziotti hanno perlustrato le altre stanze trovando uno scooter e un'altra moto anche in questo caso di significativo valore commerciale una volta eseguiti tutti i necessari accertamenti è stato possibile risalire ai proprietari dei tre mezzi che hanno subito raggiunto gli agenti ringraziandoli è stato consegnato questa mattina il murale dedicato al seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio che lo street artist Andrea Ravo Mattoni ha realizzato sulla grande facciata del palazzo adiacente alla basilica santuario di Santa Lucia al sepolcro a Siracusa l'opera è stata consegnata al sindaco Francesca Italia e al rettore della basilica fra Daniele Cugnata alla presenza della deputazione della cappella di Santa Lucia è un posto straordinario che poi comunque diventa identificativo del luogo è vero che è appunto Santa Lucia al sepolcro dove è appunto il luogo della sepoltura della Santa e quindi Caravaggio che lo ripropone qui nel 1608 proprio acquista ancora di più questo valore riportato in una parete e diventa alla portata di tutti anche se l'originale si trova dentro la chiesa però è anche un modo per essere accessibile a chiunque siamo in attesa del corpo di Santa Lucia che appunto arriverà il 14 dicembre nel pomeriggio e quindi questo anche questo evento questo che stiamo inaugurando comunque diventa motivo di entusiasmo di creare anche un po' quelle fervore che è giusto che sia così il murale con il consenso della curia della parrocchia e dei residenti del palazzo è stato voluto dal sindaco Italia per creare in coincidenza con il ritorno in città del corpo della martire siracusana il prossimo 14 dicembre un collegamento ideale con il santuario nel cui altare è custodito il quadro originale del 1608 era il 2 giugno vi ricorderete che l'annuale celebrazione si teneva proprio in piazza e il palco dava le spalle a questo nostro meraviglioso chiostro allora io durante la lunga giornata guardavo questo splendido scenario e mi colpiva questa piazza di un palazzo moderno e ho detto ma sai che sarebbe perfetta per un murales e ho pensato quasi subito al seppellimento di Santa Lucia perché l'idea secondo me straordinaria è quella di utilizzare questo tipo di arte come rimando all'arte che riprende questo non è tutto il quadro diciamo è un frame del quadro originale e mi piace moltissimo l'idea che condivido con l'artista e quindi credo che l'operazione sia fortemente riuscita tra l'altro la presentiamo in un giorno che è fortemente simbolico perché oggi è il 25 novembre lotta alla violenza contro le donne l'eliminazione delle vittime di femminicidio Santa Lucia rappresenta il simbolo di una donna che si è opposta alla violenza per difendere la propria libertà Ravo è un artista di fama internazionale che già in altre città d'arte anche all'estero ha riprodotto ed elaborato in grande scala opere di importanti pittori del passato ne hanno fatte più di 150 in tutto il mondo però è una delle più importanti e un'opera estremamente particolare proprio per la correlazione con la chiesa e con il santuario emotivamente è stato toccante cioè è stata un'operazione molto importante la difficoltà è stata principalmente nella grandezza del muro e poi ovviamente nell'affrontare Caravaggio cioè Caravaggio comunque confrontarmi con un maestro quindi io mi sento sempre un nano sulla spalla dei giganti e poi ho ovviamente deciso di fare questo particolare di concentrarmi sulla santa comunque la difficoltà principale è utilizzare le bombolette spray perché uso le bombolette spray che sono a differenza dell'olio dell'acrico non posso miscelare questi colori e quindi devo per forza di cose utilizzare una sovrapposizione di cromie però questo è il mio mestiero l'assessore alla coesione sociale del comune di Augusta Biagio Tribulato si dice soddisfatto per il contributo che il comune erogherà per il trasporto scolastico degli allunni con disabilità un risultato commenta che la nostra amministrazione ha raggiunto con la deliberazione di giunta municipale grazie ad un lavoro di squadra con il mio staff delle politiche sociali con la sinergia di intenti con il sindaco Giuseppe Di Mare con il confronto costante con la consulta per la disabilità tutta si riesce a dare quel supporto necessario previsto dal fondo nazionale di solidarietà sociale misura spiega pervenuta al comune per l'anno 2024 destinata per il trasporto scolastico degli allunni disabili in questi giorni in una sinergia che si contraddistingue tra settore politiche sociali settore economico finanziario e amministrazione comunale stiamo programmando i fondi a disposizione per le altre annualità e non ancora spesi perché il nostro unico e solo obiettivo è riuscire a sostenere in maniera adeguata le politiche sociali della nostra città e soprattutto le famiglie destinatarie dove il comune deve essere sempre comunque il ponte di collegamento migliore che ci sia per la certezza dell'assistenza l'assessore tribulato rende noto che a breve sarà pubblicato il bando che regolamenterà la fruizione del sostegno per il trasporto agli alunni diversamente abili con articolo 3 comma 3 frequentanti gli istituti comprensivi di Augusta e ciò conclude ritengo sia anche un valido strumento per incentivare la frequenza scuola come luogo di integrazione e socializzazione benvenuti benvenuti allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati per Scafatese Siracusa il big match valido per la tredicesima giornata del girone I di serie D 20-24 20-25 il Siracusa si schiera con il consueto 4-2-3-1 Turati conferma praticamente la formazione ormai divenuta titolare con Jovino tra i pali in difesa sull'auto di destra c'è Puzzone con Pistolesi sulla corsia opposta i centrali la coppia consolidata formata da Baldan e Sus a Quadro e Palermo a formare la diga di centrocampo poi Alma Candiano e Longo alle spalle dell'unica punta il capitano e capocannoniere del campionato Mimmo Maggio della terna arbitrale oggi i nomi esotici qui a Scafati il direttore di gara infatti è il signor David Kovacevic di Arcoriva assistito da Ivan Melniciuk di Bologna e Leonardo Rossini di Genova via si parte inizia Scafatese Siracusa il big match ed è il Siracusa a muovere il primo pallone con a quadro ora a quadro il pallone morbido per Longo che è tutto solo Longo si alza la bandierina e il tocco di mano vediamo se Alma si inventa qualcosa qui sull'out di destra rientra sul mancino Giuliano Alma cerca il tiro ci prova Alma il pallone alto sopra la traversa Neglia andare al centro a rientrare con il destro parte adesso il traversone sul portiere ci mette un pugno Iovino si può armare sul destra il pallone filtra va giù attenzione attenzione sembra evidentissimo il fallo c'era l'anticipo netto di Longo sul suo diretto marcatore toccato duro è andato giù il numero 7 1 e 2 fine primo tempo Siracusa 0 Scafatese 0 si va all'intervallo via si parte inizia la ripresa non ci sono cambi da parte né di Fabiano né di Turati mentre c'è il calcio di punizione con Longo che prova sembra essere intenzionato a provarci parte Longo il pallone veramente velletario poi da lontanissimo era partita benissimo la conclusione di a quadro chiama in causa nuovamente Limonelli prova ad aprire il destro poi il tocco è per Alma che con il tacco illumina l'inserimento di Puzzone il pallone non filtra per pochissimo in pressione alta il Siracusa che continua qui perde un attimo l'attimo il a quadro a quadro Siracusa 1 Scafatese 0 ma che gol ha fatto Alberto a quadro mamma mia mamma mia che gol che ha fatto come dicevamo questi sono gli episodi che possono sbloccare la partita sono gli episodi che che fanno svoltare anche le stagioni in alcune situazioni ed è bellissimo questo abbraccio di tutto il Siracusa che idealmente abbraccia tutta Siracusa cambia il risultato a quasi 10 minuti dal termine Scafatese 0 Siracusa 1 la bomba di Alberto a quadro che regala la gioia immensa al Siracusa e a tutta Siracusa Limonelli in posizione regolare può controllare il 24 entra in aria con il sinistro il pallone passa il portiere soltanto per un attimo riesce a liberare non ci è arrivato davvero per pochissimi centimetri Alma non c'è più tempo l'arbitro guarda il cronometro 1 2 3 cala il sipario il Siracusa batte la Scafatese dà un calcio alle critiche e allunga in testa la classifica del girone di Serie D un grande Siracusa e spugna il vidiello di Scafati e vola in testa alla classifica grande Siracusa Giovanni assolutamente sì assolutamente sì vittoria importantissima il gruppo è forte il gruppo è fortissimo la squadra si vuole bene il Siracusa ha un solo obiettivo e lo si deve raggiungere tutti quanti insieme Scafatese 0 Siracusa 1 il Siracusa è grande e vola in testa alla classifica sono stati cattivi a prenderci bene perché sapevano le nostre qualità come noi sapevamo le loro e diciamo non ci hanno permesso il nostro il nostro gioco all'inizio del secondo tempo li abbiamo presi un po' più altri li abbiamo messi un po' in difficoltà però senza nessuna palla a gol né per noi né per loro poi purtroppo a quadro ha fatto un gol spettacolare complimenti a lui ma non dobbiamo niente non dobbiamo buttare via tutto di questa partita logicamente il risultato no il risultato è a favore del Siracusa il Siracusa è giusto che ha segnato ha vinto e quindi va bene così battagliavamo su ogni palla e loro sono stati cattivi ma siamo stati cattivi anche noi insomma ce la siamo giocati palla la vittoria del gruppo contro ogni critica spesso tanto eccessiva oggi la squadra ha risposto presente ha risposto nello scontro diretto da qui probabilmente ripartirà una nuova stagione per il Siracusa sì siamo molto contenti ci dispiace che l'ultimo periodo è stato un po' così che in casa abbiamo ricevuto qualche fischio forse non meritato perché siamo sempre stati là sopra in classifica magari potevamo fare qualcosa di più in trasferta però non dobbiamo sottovalutare un campionato un campionato difficile dove tutti possono vincere tutti possono perdere noi siamo una grande squadra forte lo sappiamo e siamo consapevoli della nostra forza quindi dobbiamo migliorare sotto alcuni punti di vista ma oggi ci siamo tolti una grande soddisfazione in una partita complicata contro una grande squadra con cui lotteremo sicuramente fino alla fine oggi il Siracusa ha dato la risposta più importante che tutti si attendevano si chiedeva una risposta da grande squadra ed è arrivata questa risposta da grande squadra oggi una dimostrazione perfetta di quello che è e di quello che può continuare ad essere questa squadra sì certo sicuramente oggi devo dire che la mia squadra ha fatto una partita importante sapevamo del valore dell'avversario siamo venuti qua sapendo che senza una prestazione importante sarebbe stato difficile portare a casa punti devo dire che la mia squadra ha lavorato bene sotto tutti i punti di vista sia senza la palla che anche con la palla abbiamo sicuramente creato qualcosa in più dell'avversario e devo dire che tutto sommato mi sembra anche meritata questa vittoria dopo la vittoria in Euro Cup l'Ortigia torna al successo anche in campionato battendo nettamente il quinto con un'altra prestazione convincente i biancoverdi che in serie A1 non vincevano da un mese conquistano tre punti importantissimi per iniziare la risalita in classifica ma soprattutto confermano di essere in netta crescita e di avere ritrovato quell'equilibrio difensivo che era mancato in questa prima fase della stagione la squadra di Piccardo ha costruito la vittoria nel secondo parziale dopo un primo tempo non particolarmente esaltante nel quale i ritmi bassi hanno consentito ai Liguri di restare in partita e di chiudere sull'1-1 nel secondo tempo l'Ortigia rompe l'equilibrio con un dirompente 4-0 il quinto prova a reagire con l'ottimo Puccio ma di Luciano sigla il gol del 6-2 con il quale si chiude la prima metà di gara nella terza frazione l'Ortigia continua a produrre tanto in fase offensiva ma dietro concede qualcosa in più con i Liguri che riescono così a rispondere agli allunghi dei Biancoverdi i quali però nel finale si portano a più 5 grazie al rigore di Cassia nell'ultimo tempo il match è ormai in cassaforte a ribadirlo e il parziale di 4-1 che l'Ortigia realizza con le reti di Napolitano e Calazzis è la splendida doppietta di Cassia il quinto riduce le distanze ma è tutto inutile i Biancoverdi vincono e convincono ora ci sarà una settimana per preparare il derby contro il Telimar Grazie a tutti